Amici appassionati di Motorsport, ciao a tutti da Beatrice Frangione, ben ritrovati a questa nuova puntata di Sport Today dedicata alla Formula 1, una Formula 1 che ha ufficialmente spento i motori e va in vacanza per la pausa invernale in attesa di vedere che cosa ci riserverà per il 2024, ma che comunque ha lasciato tantissimi spunti di riflessione e soprattutto un unico grandissimo dominio. Ne parlo con il mio compagno d'avventura, Luca Preti. Ciao a tutti, ciao Beatrice, bentornata. Allora, ben ritrovato, noi speravamo di poter trattare anche di tanto altro di questa stagione 2023, però non si può non parlare ovviamente di chi ha stradominato, di chi ha ufficialmente aperto un ciclo di dominio, anche chissà, almeno io ho il presentimento che fino al 2026 non vedremo tanti stravolgimenti, magari dietro di loro, ma con loro la vedo un po' dura. Sto ovviamente parlando di Red Bull e di Max Verstappen. Partirei prima da questo binomio per poi parlare un po' di quello che è in realtà un altro componente della squadra, un po' più invisibile rispetto a Max, ma andiamo prima con Max. Io penso che lui quest'anno, Luca, abbia dimostrato una supremazia e un livello altissimo, però ho la sensazione che comunque non è il suo livello massimo, cioè potrebbe sempre più alzare l'asticella questo ragazzo. Assolutamente sì e ce l'hanno fatta vedere qualche gara fa, di quando fanno ancora più finta di far finta, lo dicevamo anche in diretta domenica, sono diventati molto bravi a fare finta, sta facendo un corso di recitazione Max Verstappen, lo sappiamo tutti, perché ormai fa fatica a inventarsi qualcosa da dire per fingere che l'auto va male. Io nelle dirette l'ho sempre detto, io dico che è il team Red Bull che sta segnando la storia e che ci sta facendo vedere qualcosa mai visto in nessuno sport motoristico, cioè un dominio del genere secondo me il team Red Bull ha superato anche il dominio che aveva Agostini ai suoi tempi nelle moto. Guarda, mi hai dato uno spunto perché proprio da linea ha detto, la Red Bull sta facendo meglio di noi in Formula 1, noi dovremmo aspirare a diventare la nuova Red Bull della MotoGP. E tu mi hai riaperto un'altra porta perché volevo parlando di Agostini dire, in MotoGP stiamo vedendo un dominio Ducati, ma un dominio Ducati fatto di tre team praticamente, anche se le moto ufficiali sono in due team e in uno alla moto dell'anno scorso, ma si sono dati battaglia nell'anno e si è visto che il pilota ha dovuto fare qualcosa di diverso. In Red Bull non hanno uguali e il pilota non deve fare nulla, deve portare alla fine la macchina, è per questo che sbaglia anche poco e lo sbagliare poco io non lo riconosco in un Verstappen, perché io l'ho seguito un po' dalla Formula 2 in avanti, ma non ci ho visto questo talento eclatante che sovrastava gli altri, perché in Formula 2, sì ho visto che hai fatto una brutta espressione, se vuoi intervenire intervieni, ci ha fatto vedere qualcosa, ma io vedevo piloti che erano alla loro altezza, però anche in Formula 2 avevo un team che è il team che si sa che deve vincere, perché Formula 2 e Formula 3 lo vedi subito quali sono i team più organizzati e che durante l'anno ci giocheranno. Pensa che questo ragazzo è stato preso attraverso una sorta di asta tra Helmut Marko e Toto Wolff che hanno fatto veramente a gara per poterselo accaparrare e aspetta, no no, io ho capito dove vuoi arrivare, però c'è anche da dire che nel momento in cui lui è arrivato in Formula 1 che non aveva nemmeno 18 anni, ha comunque dimostrato nel momento in cui gli è stata data l'occasione di arrivare subito nel 2016 nella Red Bull, il ragazzo però ha fatto delle cose che per avere la sua età sono state ritenute anche abbastanza straordinarie. Penso che la consacrazione più che a Barcellona del 2016, quando Hamilton e Rosberg si sono fatti cuore la prima curva e lui ne ha approfittato andando a vincere la sua prima gara in Formula 1 diventando anche il più giovane, ha battuto anche Pettel in questo. Ma certo, se mi dai la possibilità di guidare a quell'età divento il più giovane per forza. Per forza. Secondo me è stata Interlagos, quando sotto quella pioggia lui ha compiuto dei sorpassi straordinari. Secondo me lì è stata la vera, tra virgolette, non consacrazione, ma l'idea è che questo ragazzo potesse fare grandi cose in Formula 1. Allora io cerco di essere rapido nella risposta. È come se io e te andassimo a correre in circuito, un giorno potremmo farlo perché è una proposta che vi voglio fare, andiamo tutti in circuito e poi a voi do a tutti la nuova Topolino elettrica e io vengo con la nuova Ferrari 488 pista. Carina però. Tu puoi fare piovere l'acqua che vuoi. Che io se ho un'auto di quel livello, passo all'esterno, passo all'interno, basta solo che decida da che parte e passo. Ok? Perché già in quel tempo si vedeva un'auto che ti permetteva di fare di tutto. Io ti dico invece il contrario. Con una macchina così non hai fatto niente di più. Anzi, sei stato solo capace di rovinarmi un campionato alla Ferrari infilandoti in mezzo in un buco che non esisteva, in due Ferrari in una partenza che si stavano battagliando tra di loro e tu hai detto che loro dovevano spostarsi. Guarda che tu stai tirando fuori una ferita apertissima. Benissimo. Ma io non ce l'ho con Verstappen, perché quando lo vedo nei fuori onda mi sta anche simpatico. Quando ha attaccato, l'avete visto in questo weekend, che ha attaccato l'Adisivino Red Bull a Leclerc e Leclerc è andato. Quindi se vuoi anche un compagnone, ma nel suo entourage, purtroppo deve mantenere un quadro. E se do ragione, con qualche correzione, al padre di Verstappen, scusa, a Helmut Marco, quando diceva che l'etnia di certi piloti ti determina anche una capacità di concentrazione, che poi c'è il contraltare subito, perché vediamo lui come una macchina quando sta guidando. Tu vai a vedere in MotoGP, vediamo dei piloti spagnoli che adesso dalla Moto2 passeranno direttamente, Moto3 passeranno alla MotoGP. Cioè, dei campioni fatti e finiti, sia nel parlare che nel guidare. Cioè, ormai vengono costruiti fin da piccoli e quindi diventa più semplice per loro fare cose che non avevi mai visto prima. Io ripeto, non ho mai visto Verstappen in difficoltà e dimostrare veramente di essere lui che fa la differenza. E qui ti apro il tema che avevi già detto, dell'invisibile. Non è Perez quello che ha potuto mettere in difficoltà, ma non perché non sia capace, ma perché non l'ha messo in condizione. Non mi venite a dire, e io lo dico e mi assumo tutte le responsabilità, che lui ha guidato sempre la stessa macchina. Perché quando a Monaco ha messo in difficoltà Verstappen e ha vinto la gara, se non mi sbaglio, il giorno dopo, titolone, il papà di Max, si lamenta perché la Red Bull sta aiutando troppo Perez. È avvenuta nel 2022, scusate, l'anno scorso. Da lì non ha più avuto la macchina. E qualcuno mi dice, ma no, ma non è possibile, non è vero. Guardate che basta pochissimo. Guarda, io penso, Luca, penso, Luca, scusami, se ti... No, prego, prego. Penso che in realtà il principale problema è il clima in cui... Cioè, la maledizione delle seconde guide in Red Bull continua. L'abbiamo vista in passato. C'è chi se ne guarda bendonde di ritornarci in Red Bull, perché un Alexander Albon ha rifiutato l'offerta di poter eventualmente ritornare in Red Bull per sposare un progetto meno competitivo, ma comunque più sereno, più comfort zone come la Williams. Sergio Perez è entrato in crisi e nonostante i numeri dicano e dimostrino che lui ha ottenuto l'obiettivo della squadra, ma ragazzi, lui da Miami ha avuto il declino più totale. Cioè, lui ha vinto Jedda e Baku. La non-vittoria Red Bull di Singapore è stata firmata da una squadra su cui nessuno avrebbe scommesso nemmeno un centesimo, ma poi ne parleremo in una prossima puntata. Esatto. Sta di fatto che, secondo me, in questo momento Perez non ha la lucidità, non ha la lucidità e non basta una pausa invernale, oltre che infernale, per riportare la lucidità. Penso, e poi mi taccio, che una persona ci potrebbe essere, che potrebbe ritornare in Red Bull, con un clima diverso, una consapevolezza differente, sapendo che non è lui l'uomo che deve portare un mondiale alla Red Bull, ma che deve semplicemente fare il suo con una macchina competitiva e vincere le gare. Sappiamo già di chi sto parlando. Esatto, ma lo faccio io il nome, lo faccio io tranquillamente, perché il piano è già chiaro e delineato. Il sedile Red Bull parte Perez, quest'altro anno, se non arriva secondo a tutte le gare, passa a Ricciardo. E lo spero tanto per Ricciardo, perché avrà un paio di gare per rimettersi in forma completamente, perché oggi tu puoi lasciarmi sul simulatore finché vuoi, ma Ricciardo è un pilota vecchia maniera, non è un pilota che legge un numero per andare sulla macchina, è un pilota che la deve sentire, e quindi gli devi far fare qualche gran premio. Dopodiché avremo un pilota che rispetterà il suo ruolo, perché secondo me Ricciardo lo farà pur di tornare a correre, e sarà sempre secondo come vogliono in Red Bull, perché probabilmente gli daranno la macchina per poterlo fare. Ma in difesa di Perez, anche se oggi lo vedo veramente un pilota in confusione, come hai detto tu, perché ha fatto degli errori veramente banali, tipo quello di Domenica, che Domenica non era voluto, quello che è stato definito, non da me, il sorpasso alla Verstappen, in cui io perdo il punto di corda e ti allungo, e non vorrei sbagliarmi, ma quando l'ha fatto due gare fa, ha andato tre secondi o cinque sempre, per aver portato fuori Leclerc che ha la partenza. A Verstappen le ha guardate cinque secondi, ma sono stati una carezza. Sì, ma l'ha portato fuori. Perez si vede benissimo, perché mi sono riguardato i rallenti venti volte, si vede benissimo che imposta la curva, la perde perché è instaccata forte, la perde quell'attimo che esce di un metro e accompagna fuori. Come si fa? Ma quella è la difesa in un attacco portato in quel modo. L'errore che ha fatto Perez, hai una macchina che lo facevi nel rettilineo dopo, ma per il resto, ripeto, lui secondo me è il pilota più contestato nella storia dei piloti, perché non solo in Red Bull, ma è arrivato secondo nel mondiale, tranquillamente. Poi non ditemi a meno della metà dei punti di Verstappen, ci sono mille motivi per cui ce li ha, ma è il secondo nel mondiale, è il vice campione del mondo e tutti i weekend gli dicevano che forse non era suo quel sedile, quindi bravissimo. un controsenso perché non rispecchia secondo me effettivamente quel numero di punti nella sua seconda posizione, quello che effettivamente ha dimostrato in pista. Con la speranza di vedere un Perez un po' diverso nel 2024, caro Luca, noi siamo giunti alla conclusione di questa parentesi Red Bull, di questa chiacchierata fast, molto veloce di Red Bull, io invito i nostri amici comunque a parte iscriversi al canale e seguirci, ma fateci anche le vostre domande, se avete delle curiosità scriveteci qui sotto, dateci altri temi se volete da trattare, volete un approfondimento su Sergio Perez, richiedetecelo e sarete assolutamente accontentati. Non perdetevi la prossima puntata perché sarà una puntata molto rossa, molto molto rossa. Io ci sono? Ci sono? Posso venire? Sì, assolutamente. Ciao a tutti ragazzi. Un saluto, ciao. 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 Ciao.